lo scultore Enrico Tadolini erede e continuatore di una così schietta dinastia di artisti colto dall'obiettivo mentre modella il busto del cardinal Gasparri in questo studio di scultura lavorò Adamo Tadolini allievo prediletto del Canova e continuarono a lavorare i figli Giulio e Scipione e lavora ancora Enrico Tadolini autore di pregiate opere monumentali in Italia e all'estero